Ogni storia ha un inizio. Scoprite l'origine del male. Perché sei tornata, Claire? I tuoi complotti non erano veri da bambini. E non lo sono ora. Dobbiamo smascherare la Umbrella. Guarda questo. Ho paura, Claire. Ho paura di quello che faranno a questa città. Alla Umbrella è accaduto un incidente. Una cosa tipo Cernobil, se capisci che intendo. La gente si ammana. Aiutaci, Claire. Fa sapere al mondo cosa succede. Dobbiamo contenere la cosa. Andiamo. Che ci faceva l'Umbrella qui? Dove facevano gli esperimenti su di loro. Ma che... Ti serve aiuto? A ti serve aiuto. Dobbiamo andarcene. Distruggeremo la Umbrella. Perreste, cosa si stanno? Ci serve aiut preço? Bisogna ecosystems